ci provo la roma segna il gol mancini e adesso siamo sotto niente da fare mi rubo a palla niente da fare niente da fare incredibile stiamo perdendo contro la roma vediamo se riesco a superarli attenzione riesco a passare in attacco ci provo rete 1 a 1 a e e e e e Grazie a tutti! Rimaniamo così, in fase di stallo! Lo vedo! Cazzo! Sempre sopra il gioco! Porca puttana, raga! Dai raga, dai! C'è ancora tempo, c'è ancora tempo se non prendiamo golle, c'è ancora tempo! Attenzione alla Roma! Ci prova! Attenzione alla Roma! La mette in mezzo! Segna di pada, segna! Piero, hanno tirato fuori dal cilindro un gol che potrebbe datare! Grossamela! Ci provo! Porca puttana, non ci arrivo! Abbiamo in giro! Abbiamo in giro! Abbiamo in giro! Possiamo provare l'ultima azione! Riusciamo a recuperare la palla! Attenzione alla Roma! Ci riprovo! Meno male! Meno male! Il tiro è debole! Possiamo provarci! No! Passaggio sbagliato! Peccato! Peccato! Peccato ero solo! Peccato! Troppo lunga! Troppo lunga! Chi ci deve arrivare lì? Prendila se ci arrivi! Cazzo! Partita finita! Attenzione alla Roma! Intercetta la traiettoria! Possibilità! Non si avanza! Non si avanza! La Roma ci prova in tutti i modi a chiuderla! Ormai la partita è finita! Se crossi possiamo farla l'ultima! Niente da fare! Finisce così! La Roma finisce in attacco! Ma andiamo a perdere! Rosario De Santesis! Mi dice Ho letto il tuo post! Hai già parlato con il tecnico? Dubito che sarò felice! Solo perché ho detto che se giocassimo con una tattica diversa forse possiamo riuscire a battere la Roma! Va bene! Italia-Inghilterra! Siamo in casa oggi in Italia in un match con... Andiamola a vincere! Amici appassionati, ben trovati! La prima ci parte dell'Ele Adani qui con me per il commento tecnico! Di fronte Italia... Attenzione! Ciao Pierre! E' sempre un piacere per me essere qui in primo... Siamo i campioni dell'Europa in corso! E dobbiamo andarla a vincere per forza! Attenzione! Ero punto la palla! Cosa fa? Cosa fa? Ma un crossettino in mezzo no eh! Attenzione! All'Inghilterra! Vediamo se riusciamo a fare qualcosa! Niente da fare! Attenzione perché la palla rimane a noi! Ti vedo in mezzo! Avanza! La passa a me! Vediamo se riesco a fare qualcosa! Niente da fare! Volevo provare il tiro! L'Inghilterra prova a ripartire però c'è la difesa! Vediamo se riusciamo a fare qualcosa! Vediamo se riusciamo a saltarli! Niente da fare! La palla la tengo ancora io però! Non mi fermo! Inarrestabile! Ci provo! Che gol! 1-0! E' solo un amichevole però! Ottimo inizio! Palla recuperata! Vediamo se riusciamo ad avanzare a fare un altro gol! Ti vedo sulla fascia! Palla! Crossala in mezzo! Grande! Un passaggio! Ci provo! Questa volta c'è il portiere! Palla recuperata! Palla però! Non riusciamo a recuperarla! Attenzione! L'Inghilterra tiene palla! Non si vogliono fermare! Incredibile! Attenzione perché ci saltano! Hanno tutto libero! Ci prova! C'è il portiere! Donnarumma la prende come un acrobata! Poi fa lo scavino per terra! Vabbè! Vi faccio vedere al centro! Vediamo se riesco a saltarlo! Attenzione! Ci provo! Centrale! Inghilterra! Volevo superare la difesa ma non c'è più uscita! Vi occupiamo subito palla! Ripartiamo subito veloci! Passa la palla a me! Ok! Vediamo se riusciamo a costruire l'azione fatta bene! Passamela! Passamela! Porca troia! Me la potevi passare! Attenzione! Vabbè! Posso provare a metterla in mezzo! Vediamo chi ci arriva! Di testa magari non ci arriva! Peccato perché la palla è ancora nostra! Passaggio un po' troppo frettoloso mi hanno fatto! Però vabbè! Almeno ci hanno provato diciamo! Attenzione dell'Inghilterra perché è veramente furiosa adesso! Provare ad attaccare in qualsiasi modo! Attenzione! Perchè c'è anche spazio per poter tirare! Meno male! C'è la difesa! La mette in mezzo! C'è il portiere! Possiamo provare ad attaccare in qualche modo! Vediamo! Creiamoci spazi! Creiamo una bella azione fatta bene! Ok! Vediamo se riesco a saltarlo! Ok! Ci riesco! Non c'è nessuno di fronte a me! Ci provo! Che tiro di merda! Palla recuperata! Ci provo! E il portiere me la prende! Non ci arrivo di testa! Palla ancora nostra! Ci provo a giro! Questa volta c'è difesa! Il difesa c'è! Il difensore! Palla nostra! Possiamo ripartire! Mamma mia! Manco il tempo di parlare! Non mi danno niente! Nemmeno il tempo di parlare che già ci fanno rubare palla! Ma come fanno? Eh! Raspami i coglioni! Ma che cazzo di passaggio è? Attenzione l'Inghilterra che ci prova! Per poco! Per poco! Per poco! Non faceva l'1-1! Spaziamo la via sta palla! Purtroppo perdo palla! L'Inghilterra può ripartire però la difesa è bella compatta adesso! E infatti recupera palla! Non so perché questo passaggio! Attenzione! La riesco a tenere in qualche modo! Attenzione! Ecco Politano! Attenzione perché lo salto! Ci posso provare! Sul primo palla non ci riesco! Peccato! Palla nostra! Me ne vado sulla fascia! Attenzione! Me la faccio passare! Ci provo! C'è ancora il portiere! Vediamo se ci arrivo! Invece no! Attenzione perché li salto tutte e due! Anzi tutti e tre! Devo solo accentrarmi! Ci provo lo stesso! La palla è ancora nostra! Ci provo di botta! Mamma mia! Vediamo se ci arrivo di testa! Palla ancora nostra! Passaggio bruttissimo! Palla nostra! Attenzione! Palla nostra! Ci prova! L'Inghilterra con un quizzo! 1 a 1! Purtroppo azioni non troppo concrete l'Italia sto facendo! Occhio al pallone per il possibile vantaggio! E c'è il secondo gore in pochi minuti! Partita completata! La ribalta l'Inghilterra! 2 a 1! 45 minuti! La partita è ancora aperta! Certo! L'Italia deve recuperare! Non stanno giocando male! Ci provo! Me la para ancora! Passaggio bruttissimo! Ripallato! Attenzione! L'Inghilterra che prova a chiuderla completamente! Finisce il primo tempo! 1-2! Finisce il tuo tempo! Nerone! Ciao